Ciao a tutti da Mondo Calcistico, oggi sono qui per parlare di Dybala Non mi interessa parlare di calciomercato, quindi darlo per fatto all'Inter, direi che non sia giusto o quant'altro Ne voglio parlare a livello tattico, quindi vedere e capire se Dybala può integrarsi nell'Inter di Simone Inzaghi Ed eventualmente proprio con Lautaro Martinez Quindi in questo video parlerò proprio di tattica, ci saranno anche le immagini adeguate E parto subito con la premessa che secondo me Dybala nell'attacco posizionale di Simone Inzaghi può andare benissimo Cos'è questo attacco posizionale? Semplicemente i calciatori dell'Inter creano degli spazi e questi spazi vengono riempiti da altri calciatori Quindi se noi vediamo l'esempio di Marco che da difensore della difesa 3 diventa un centrocampista, diventa un trequartista, diventa un attaccante aggiunto È perché c'è qualcuno che ha creato degli spazi in cui lui è andato a correre Questo capita con Di Marco ma capita con Bastoni, capita con Skriniar, capita con Cialanoglu, capita con Brozovic, anche Dzeko e altri calciatori Quindi possiamo vedere ad esempio Cialanoglu che in posizione di trequartista va a un certo punto davanti alla difesa Possiamo vedere Brozovic che da davanti alla difesa diventa una sorta di difensore aggiunto e ci sono tanti esempi Quindi immaginate una squadra che crea tanti spazi come può fare del bene un calciatore come Dybala che di spazi ci vive Ho voluto esaminare una partita in cui sia Dybala che Martinez hanno giocato assieme quindi ovviamente non in club ma in nazionale Più precisamente nella nazionale argentina Qui giocavano in coppia, ovviamente l'autore Martinez faceva da prima punta, Dybala da seconda punta I due formavano la classica coppia in cui la prima punta allunga la difesa e Dybala nel frattempo va tra le linee, cerca di spazi e quant'altro Ho voluto prendere delle similitudini quindi qui vediamo un qualcosa che l'Inter fa costantemente, lo faceva con Conte e lo fa con Inzaghi Quindi la costruzione dal basso con il portiere in cui qui vediamo che Martinez, il portiere dell'argentina, passa il pallone a Romero Successivamente Romero passa il pallone a Molina e il difensore esterno lancia lungo in avanti Un qualcosa che abbiamo visto fare molte volte sia con Conte che andava alla ricerca di Lukaku e con Inzaghi ad esempio con la ricerca di Dzeko Qui vediamo Dybala che va a prendere il pallone da Molina, la passa all'Ocezzo che in quella partita stava giocando da centrocampista esterno E nel frattempo Lautaro Martinez è il giocatore di riferimento in avanti, cerca di allungare la difesa avversaria e successivamente andrà anche in profondità Questo all'Inter ovviamente può essere fatto ma cambiando gli interpreti succede questo Gagliardini in questo caso lancia lungo in avanti, c'è Sanchez a prendere il pallone L'attaccante cileno passa il pallone a Lautaro Martinez che gliela restituisce e successivamente c'è il cambio gioco verso Perisic Questo può essere fatto tranquillamente con Dybala, quindi qui vediamo un cambio gioco per Perisic, ci può essere anche un passaggio in profondità per Dumfries In questa partita magari Simon Inzaghi aveva chiesto dei cambi gioco, quindi questo può essere fatto anche con Dybala Dalla partita di Lautaro Martinez e Dybala voglio evidenziare il fatto che i due fossero molto lontani Quindi Lautaro Martinez rimaneva centrale, faceva da prima punta, cercava di allungare la difesa avversaria Mentre Dybala si allargava tantissimo, si allontanava da quella zona e soprattutto si scambiava molto con Di Maria Qui vediamo Di Maria che si accentra, ho messo in evidenza anche Molina che nell'Inter può essere il Dumfries di turno E quindi qui vediamo che Dybala si allarga, Di Maria si accentra Ovviamente ad ora l'Inter non ha un Di Maria che sa fare questo tipo di gioco Magari quel movimento può essere fatto da Barella, però sono caratteristiche talmente diverse che non possiamo chiedere a Barella di fare quello che fa Di Maria Quindi comunque a Dybala piace andare in quella zona del campo, quindi ci dovranno comunque essere dei meccanismi eventualmente da capire Giocando in quel modo però Dybala e Lautaro Martinez erano lontani e quindi l'attuale attaccante della Juventus non può fare un gioco che gli piace tanto Quindi andare sulla prima punta, sull'attaccante, che protegge il pallone, spalla la porta, spalla il difensore Nel frattempo Dybala o va davanti a lui, in questo caso a Higuain, o attacca un altro spazio, in questo caso l'area di rigore direttamente e qui si trova a segnare Questo poteva essere tranquillamente fatto da Lukaku per esempio, sostituendo Higuain Con la Toro Martinez esce un po' meno naturale, ci si può lavorare eventualmente, però è un qualcosa che Dybala piace veramente tanto La Toro Martinez comunque piace attaccare l'area di rigore, piace tirare, gli piace segnare Quindi questo tipo di gioco non è perfettamente nelle sue corde, ma a livello tecnico ci sa fare La difesa del pallone la sa fare, quindi eventualmente ci si può lavorare Con l'Argentina raramente lo facevano, però con l'Argentina c'erano anche altri interpreti, quindi non per forza dovevano lavorare su questo Qui ho voluto mettere in evidenza un altro problema che ci potrebbe essere nell'Inter, perché Qui vediamo la Toro Martinez che attacca l'area di rigore mentre Perisic ha il pallone Mentre Sanchez che è partito alla seconda punta, va in area di rigore E quindi quando Perisic si ritrova sul fondo a dover crossare, in area di rigore ci sono sia la Toro Martinez che Sanchez Con Dybala ovviamente questo sarebbe un po' più complicato, perché io ho voluto fare una sorta di riproduzione di quello che sarebbe potuto succedere con Dybala Dybala magari avrebbe fatto quel tipo di movimento, quindi non sarebbe andato in area di rigore Avrebbe cercato lo spazio, si sarebbe avvicinato da Perisic per ricevere il pallone Ma se Perisic non lo dovesse vedere, non riuscisse a passargli il pallone o quant'altro Successivamente si potrebbe verificare questo, quindi la Toro Martinez è completamente solo in area di rigore Questo l'Inter ovviamente lo potrebbe risolvere o con un centrocampista che si inserisce Barella lo fa poco e magari potrebbe migliorare questo aspetto O magari ci potrebbe essere un altro esterno che potrebbe essere Dumfries Però comunque è un aspetto da non sottovalutare Ho voluto prendere come esempio un gol che ha fatto molto famoso Dybala contro il Barcellona Azione molto simile, magari un po' più spostata in avanti Però comunque Dybala si stacca dai difensori, va verso lo spazio, quindi tra difesa e centrocampo Va a ricevere il pallone di Mandzukic, poi tira e segna Questa ovviamente è un'azione un po' più particolare Perché bisogna mettere nelle condizioni gli avversari di essere così lunghi Però è un qualcosa che Dybala piace ovviamente Ripeto che ho voluto mettere in evidenza l'aspetto tattico Perché non mi interessa dire Dybala andrà all'Inter, la Toro Martinez rimarrà o quant'altro Ho voluto parlare dell'aspetto tattico che ormai non si fa più Ancora più in un periodo di calcio mercato Spero vi sia piaciuto, ciao a tutti da Mondo Calcistico